NAPOLI E LA CITTÀ METROPOLITANA NAPOLI E' molto interessato a NAPOLI con i colleghi ambasciatori degli altri paesi dell'Asia perché NAPOLI sta cambiando, ci sono dei cambiamenti quindi c'è una grande curiosità di venire in questa città per creare maggiori collegamenti prima di tutto culturali che sono propedeutici a quelli che possono essere gli sviluppi futuri tra NAPOLI e la sua città. La provincia, quindi la regione Campania, tutto e i paesi dell'Asian. La delegazione dell'Asian che rappresenta oggi il più grande progetto di integrazione regionale nel sud est asiatico dopo l'Unione Europea proseguirà la giornata di incontri alla Camera di Commercio al Porto e all'Università Federico II a San Giovanni a Teduccio. Una città che punta molto sul suo profilo internazionale non può che stringere rapporti sempre più forti con il mondo e qui parliamo di un bacino di quasi un miliardo di persone. Quindi è importante che ci sia questo interesse forte che si è registrato nel saluto dell'ambasciatrice della Thailandia sulla città di NAPOLI e sulla consapevolezza di quanto NAPOLI sta facendo negli ultimi tempi per il suo rilancio. Quindi è un riconoscimento importante per una parte del mondo a cui guardiamo con grande interesse e siamo onorati del fatto che loro guardino con tanto interesse la nostra città.